musica bella raga bentorni di play in questo nuovo video oggi siamo in un nuovo video di fortnite il tempo record sono riuscito a finire la settimana 6 il giorno dopo vi ricordo che per prendere la stellina bisogna per forza questo qui è la segreta ovviamente cercate nella direzione di cui sono rivolte le teste di pietra non l'ho potuta fare perchè non l'ho potuto registrare però vabbè quindi questa qui è la cosa della settimana 6 stiamo vedendo un film zoomerò dove c'è l'auto dove c'è mazza si vede pochettino si vede però c'è là quindi possiamo mettere pronto e si vola e andiamo in battaglia ok adesso si vede meglio si vede tutta la sagoma la stella si trova ovviamente a rapida ovviamente dove c'è la macchina rossa dove c'è mazza comunque là la macchina rossa vabbè comunque sta qua davanti allo schermo circa questo vabbè comunque quello vogliamo ok insomma il paracadute e andiamo e andiamo al rapide rischiazze vabbè ormai il paracadute si è tenuto quindi ok sta dove c'è quella macchina rossa no per non esserci nessuno non c'è proprio nessuno mi sa che però è questa qua ok questa qui è la missione quindi qui c'è la missione però no si non si vede la stella quindi raga questa qui è la stella faccio vedere bene si trova semente qua davanti allo schermo del cinema tutto rotto dai e questa qui è la stellina la prendiamo è bella ok raga quindi scusate ancora se non sono riuscito a portarvi quella di seguire la testa di pietra scusate se non l'ho potuta fare ma comunque se non l'avete fatta ve lo dico proprio ora dove si trova si trova qua nel punto più alto della collina quindi qua si trova là quindi raga il video è finito raga se il video è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo a un prossimo video della stella della settimana 7 e quindi noi ci vediamo a un prossimo video ciao bye